Buongiorno, vi è mai capitato di prendere un'erba e di trovare che funzionasse molto bene su di voi e subito dopo prendere un'altra erba e di trovare che funzionasse poco o nulla su di voi? Come mai capita questo? Tutte le persone più o meno si dicono sono le erbe che funzionano poco o che funzionano male, ma gli alchimisti, coloro che studiavano l'alchimia vegetale davano una risposta completamente diversa, infatti loro seguivano la dottrina delle segnature che vede come ognuno di noi e ogni pianta sia sotto la segnatura, l'impronta, la traccia di uno dei sette pianeti dell'astrologia classica, Saturno, Luna, Venere, Marte, Giove, Mercurio e Sole. Quindi abbinando uomini e piante riuscivano a dare una cura molto più personalizzata ed efficace. Per chi è utile questo corso? Il corso è utile anzitutto per i terapeuti, medici, psicoterapeuti, counselor, massaggiatori, infermieri, veterinari che abbiano voglia di integrare queste antiche conoscenze nella loro pratica per essere ancora più utili ai loro pazienti. Inoltre è utile a tutti coloro che desiderano prendersi cura con le erbe dei loro familiari, amici o parenti. Il corso si compone di dispense, di video e di test. Per ogni singola parte farete un test. Io sono Arianna Romano, la vostra tutor e docente e mi potete contattare tramite il forum. Sono e resto a vostra disposizione per tutte le domande. Arrivederci!